Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In casa Teramo l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro è legata alle decisioni del Tribunale di Roma. Dopo che Massimo Chierchia e Davide Ciaccia sono stati autorizzati su pressione al Tribunale a riprendere in mano le redini del Consiglio di Amministrazione, il primo come amministratore unico, il secondo come attuatore del progetto di iscrizione, il sodalizio biancorosso ha ritrovato l'operatività di fare e di lavorare, anche se lo stesso resta sotto il controllo del Tribunale, perché nei confronti del gruppo Ciaccia sono state disposte misure di prevenzione perché i Ciaccia ha ritenuto i soggetti pericolosi per gravi reati commessi, misure che sono tuttora in essere. Dunque è necessario a questo punto lo sblocco della disponibilità di un'azienda dei Ciaccia, la Greensport, che ha il controllo del 60% delle quote di maggioranza del Teramo, affinché sia tutto ok per ripartire. Domani sarà una giornata decisiva. Se dovessero arrivare notizie positive dall'autorità giudiziaria, allora si darebbe il via al rush finale degli adempimenti da completare entro la data del 22 giugno. Sono ore di attesa per i tifosi, perché come ha sempre dichiarato il patron Davide Ciaccia, per salvare il diavolo, oltre alla raccolta delle sponsorizzazioni, come avvenuto grazie alla risposta degli imprenditori locali e la disponibilità dell'ex presidente Franco Iachini, con la sottoscrizione della polizia fideussoria, il Tribunale dovrebbe sbloccare, e questo è il passo più difficile ma non impossibile, alcune liquidità collegate alle aziende ancora sotto sequestro dei Ciaccia. Il giudice delegato darà il bene placido solo dopo aver verificato la concretezza delle sponsorizzazioni raccolte. Non resta che attendere e capire se il Teramo riuscirà a partecipare alla Serie C conquistata sul campo.